Ecco che c'è un trattore che viene in aiuto per risolvere e aiutare a tomare le fiamme. Qui c'è una macchina dei rigidi urbani, dei rigidi del fuoco che sta andando via. Vediamo la situazione, ecco qui, stiamo un po' contro luce, quindi da lontano. Vediamo 5-6 rigidi del fuoco, qui non c'è nulla, il vento tira verso... verso sud, a volte gira, ecco qua il colpo d'occhio, vedete, questo è il fianile. Io direi che per il momento possa abbassare, tanto ormai si andrà a spegnere, vedete le fiamme sono abbastanza forti. E spregionano anche il fumo che non è bene respirare. Va bene, chiudiamo, intanto anche alcune macchine vanno via e chiudiamo anche noi.